Allora, un bel giretto in bici sulle coste Ligure, c'è un po' di vento, molto vento, però vediamo cosa viene fuori Andiamo Ecco Queste sono tutte le spiagge Nel mese di novembre c'è una bella giornata Questo non termina male Non è male C'è vento, vento Non è male Non è male Adesso ci infiliamo Dove eravamo prima Però oggi c'è il sole Non è male Non è male Non è male Oggi è il mese di novembre C'è ancora qualcosa Però Fra un po' andiamo A Natale Adesso qua non parlo più perché mi trama la voce Non è male 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 Ancora Un po' andiamo Grazie a tutti. Andiamo a vedere il monastero dei Frati. Ecco, che bel panorama da qua, non tanto alto ma bello da vedere. Andiamo nei vicoletti. Mamma mia che strada. E questo è il convento dei Frati Cappuccini. E' pure aperto. E questo è il panorama. Vediamo se è aperto. E' entrata. Padre Pio, questo è il convento dei Cappuccini. Che bello. Ecco. E per oggi è tutto. Ma che spettacolo. Adesso facciamo volare un po' il drone.